La sperimentazione di via Dante Lighieri sarà sino a fine aprile. Si tratta di un intervento in un tratto che era privo di un marciapiede dedicato. Quindi con questa nuova segnaletica, che è una segnaletica naturalmente provvisoria, andiamo a lasciare libero tutto quello che è il parcheggio lato mare. Quindi le persone potranno tranquillamente parcheggiare, mentre andremo a precludere quelli che sono i parcheggi lato monte. All'incirca sono 35 posti auto. Naturalmente, proprio sulla parte lato monte, abbiamo già realizzato una segnaletica a terra per inserire una pista ciclabile, e quindi per la messa in sicurezza di tutto quello che è la mobilità dolce, e quindi di ciclisti e pedoni, perché ad oggi questo purtroppo non succedeva. E nello stesso tempo, togliendo tutti i parcheggi, a fianco alla pista ciclabile, ci sarà anche proprio un marciapiede, quindi uno spazio, diciamo, proprio dove le persone potranno camminare in sicurezza. Questa, ricordo che è un intervento appunto fortemente sollecitato dalla Prefettura e dai residenti. È un intervento dove non siamo potuti intervenire prima, proprio perché all'interno, diciamo, di quell'area c'era un lavoro di sottoservizio da parte di Aset. Oggi finalmente è concluso, tanto che a fine lavori, diciamo, a fine sperimentazione, andremo proprio a realizzare una nuova asfaltatura. È chiaro è che questi 35 parcheggi che andranno a gravare, naturalmente sulla cittadinanza, adesso fortunatamente è un periodo non estivo, e quindi ce lo possiamo permettere di sperimentare. Poi dovremo prevedere, che sono già inseriti all'interno del piano regolatore, delle aree per contenere questi spazi. Per aiutare gli imprenditori e gli esercenti che sono appunto in questo tratto, interessati da questo tratto, abbiamo, in questo momento, metteremo a disposizione delle aree di carico-scarico nella parte del lato mare. Grazie. Grazie.